Ieri notte in Val Susa a Chiomonte la polizia e un'ottantina di manifestanti attivisti notav si sono fronteggiati in quella che doveva essere una passeggiata notturna al cantiere. Un agente è rimasto levemente ferito e ci sono stati alcuni contusi. Paolo Volpato. Da una parte lanci di pietre, grossi petardi, spinte e fracasso contro le spesse reti. Dall'altra idranti e lacrimogene. Al cantiere dell'alta velocità a Chiomonte la polizia è stata impegnata per oltre un'ora, verso le 23, da un'ottantina di militanti notav partiti dal presidio dei mulini. Qui vedete le immagini di uno sgombero del presidio nel luglio scorso. Durante la sassaiola alcuni poliziotti contusi, uno lievemente ferito. Solidarietà agli agenti dall'assessorato alla sicurezza della regione. Non si hanno notizie sul fronte dei notav, nei riguardi dei quali sono in corso accertamenti per arrivare all'identificazione e all'apertura di un ennesimo procedimento penale. In questo fine settimana, gli attivisti notav hanno ridato corsa alle proteste contro il nuovo ampliamento del cantiere con una tre giorni di incontri dedicati a cura, ambiente e territorio, svoltisi senza problemi, presenti alcuni tecnici della comunità montana della bassa Val di Susa. La tre giorni di protesta si concluderà stasera con un ritrovo al campo sportivo di Giaglione.